Ben trovati cari amici e fratelli e sorelle all'incontro con la parola per prepararci alla quarta domenica di Pasqua. Sottolineiamo ancora questo nome, non è la terza domenica dopo Pasqua ma è quarta domenica di Pasqua. Ogni domenica è Pasqua, la nostra Pasqua settimanale. Questa quarta domenica di Pasqua da sempre, nella mia memoria di giovane prete la ricordo sempre così, è chiamata Domenica del Buon Pastore per la pagina di Vangelo che è tratta dal capitolo decimo di Giovanni dedicato quasi per intero al Pastore Buono. Il Pastore è un'immagine consueta nell'Antico Testamento e nel Vangelo perché a quei tempi era familiare quanto la vita di ogni giorno, un buon mestiere per mandare avanti la propria vita e la vita della famiglia. Oggi no, tuttavia questa immagine è capace di suggerirsi ancora cose belle, facili da capire. Penso anche per i nostri ragazzi l'immagine del Pastore delle pecore, anche se loro magari hanno visto le pecore soltanto alla televisione o per internet. Immagine frequente nell'Antico Testamento. I profeti usano spesso parole forti contro i governanti che sono pastori malvagi perché invece di prendersi cura delle pecore si intende la povera gente, solo a proprio vantaggio per ingrassarsi. Dall'altro canto dicono i profeti Dio è il vero pastore, da imitare. Isaia, capitolo 40, in Ezechiele e poi il Salmo che ci è familiare, il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attisa. Dice Isaia, egli è come un pastore che passa il suo greggio, raccoglie gli agnelli in braccio, li porta sul petto. Nel Vangelo, Vangelo di Matteo e di Luca, questa immagine è collegata alle parabole della misericordia, la pecora smarrita a cui va in cerca, se la carica sulle spalle, se la porta all'ovile. misericordia e tenerezza questo pastore. Giovanni vi dedica un capitolo abbondantemente, una buona parte di questo capitolo intero, Gesù pastore buono, lo chiama così, anzi dice pastore bello, la parola è proprio questa, il pastore bello, per dire che è così bravo, così forte, che è perfino bello. Leggiamo allora qualche riga di questo tratto del capitolo di Giovanni. Gesù disse, io sono il buon pastore, il buon pastore dà la propria vita per le pecore, il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me, così come il padre conosce me e io conosco il padre e do la vita per le pecore. Giovanni, più che di mitezza e di tenerezza, come fanno Matteo e Luca, sottolinea in Gesù il pastore forte, coraggioso, il vero pastore che si prende cura, che difende le proprie pecore, fino in fondo, fino a dare la vita. Il salariato, dice Gesù, non lo mette in conto nel contratto di lavoro, neanche i normali pastori avevano la consuetudine di perdere la vita per le pecore. Per Gesù si è veri i pastori se ci si prende cura delle pecore incondizionatamente. Per il resto è come il comandamento dell'amore all'ultima cena. Quante volte ce lo ripeti in quell'ultima cena, vi do un comandamento nuovo, vi do il mio comandamento, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Poi lo spiega, non c'è nessuno che ha un amore più grande di colui che dà la vita. Questo prendersi cura senza porre condizioni delle persone fragili, di chi ci cammina dietro o davanti, noi lo mettiamo in conto. Perché poco o tanto ciascuno di noi è un pastore. Lunga o corta che sia, siamo in testa a una fila, a condurre, a segnare il sentiero, pur in fondo la fila a incoraggiare, difendere, sostenere. È la nostra esperienza quotidiana. Gesù ci chiede di farlo con amore incondizionato. Essere buoni pastori come lui. Da Gesù, il buon pastore, nascono parole che usiamo di frequente, passo a un'altra parte della nostra riflessione, che usiamo di frequente nella vita delle nostre parrocchie o della diocesi, come la pastorale, fare pastorale, il consiglio pastorale, i nostri pastori, intendendo il parroco e gli altri preti che lavorano in mezzo a noi. Ecco allora perché da molti anni, 61 per la pregegione. Lo ricordo, era l'anno prima della mia ordinazione sacerdotale. Ecco perché da questi molti anni, questa domenica nella Chiesa Universale è dedicata in maniera speciale, specifica, alla preghiera e alla riflessione per le vocazioni al Ministero ordinato. insomma per avere in mezzo a noi ancora qualche buon prezzi, come usiamo dire. Mi verrebbe la voglia di fermarci a fare tante considerazioni su questo argomento, su ciò che ci sta a cuore, preoccupati come siamo della scarcità di prezzi in mezzo a noi, nelle nostre parrocchie. ci manca l'oratorio, ci manca il numero delle messe a cui eravamo abituati, eccetera, eccetera, lo sappiamo. E le unità pastorali che sperimentiamo, in fondo, ne sono un segnale che tutti tocchiamo con mano. Ma questo non è il momento, né c'è il tempo per farlo. Una parola però ve la voglio dire. Dobbiamo, su questo problema, chiamiamolo così, problema, emergenza, evitare due estremi. Parlare soltanto piangendoci addosso, come se fosse la fine o come se la soluzione della fede, della vita cristiana in mezzo a noi, nelle nostre famiglie, nella società, se la soluzione stesse soltanto in qualche decina di preti in più. È una grande illusione. E nemmeno però vogliamo liquidare la questione vocazionale come se non fosse più un problema. O un problema che riguarda altri. Gli addetti ai lavori era così quando si era abituati nei tempi di abbondanza. voglio dire che anche oggi noi cristiani, soprattutto noi cristiani della comunità eucaristica dominicale in particolare, non dobbiamo cessare anche oggi di chiamare, come faceva Gesù, sulle rive del lago o al banco delle imposte. Non cessiamo di pregare perché ci siano ancora risposte generose oltre la carne e il sangue. Non cessiamo di seminare vita cristiana buona con la speranza evangelica che il seme che siamo noi. Per quanto piccolo esso sia, è fatto per dare la spiga. È il grano buono. Il seme piccolo non è fatto per morire. Non ci deve mancare questa speranza di seminare sempre. Vita buona, testimonianza cristiana. Con il cuore e la mente però attenti a quello che il Signore, attraverso questi segnali un po' laceranti e inconsueti, ci fa capire per il futuro della sua Chiesa. Con la consapevolezza, ecco una conseguenza importante per ciascuno di noi, che è giunto il momento di essere sempre più cristiani in prima linea per il bene di tanti. Con la consapevolezza che il Signore ci ha chiamati alla fede ad essere cristiani, ad appartenere a una comunità, non a nostro uso e consumo per salvarci l'anima, per salvarne noi stessi. Ma, e voi mi capite, capisco che con questi discorsi non abbiamo risolto niente. Abbiamo tracciato una strada buona, un cammino da seguire. E vi do un po' di lezione per casa allora. Vogliamo leggere il discorso di Papa Francesco per questa giornata vocazionale e anche informarci della vita della nostra diocesi, della nostra parrocchia, del nostro seminario sulla pastorale vocazionale in questi nostri tempi. Sentirci partecipi attivi. Buona quarta domenica di Pasqua del Buon Pastore. Grazie. 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 Grazie.